2 milioni e mezzo di euro di beni di proprietà di due imprese edili aquilane sono finite sotto sequestro questa mattina quando è scattata l'operazione della Guardia di Finanza a conclusione delle indagini riguardanti la ricostruzione post terremoto della caserma aquilana Pasquali Campomizi. L'accusa formulata dal pubblico ministero della procura aquilana Stefano Galo, titolare dell'inchiesta, è di turbata libertà degli incanti, truffa aggravata, abuso d'ufficio e falsità ideologiche oltre a dimissioni di fatture false per operazioni inesistenti per un importo di circa 600 mila euro. Sono 12 in totale gli indagati di questa ennesima inchiesta sulla ricostruzione del dopo terremoto tra cui figurano anche i vertici protempore del provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Roma e dell'Aquila, Giovanni Guglielmi, 61 anni, di Lecce, provveditore interregionale protempore, Giancarlo Santariga, 58 anni, di Tagliacozzo, provveditore aggiunto. Dirigenti e tecnici dell'ufficio periferico abruzzese, oltre naturalmente due imprenditori titolari delle imprese, oggetto del sequestro di beni, in particolare un villino e un box a Tortoreto, un capannone commerciale, un appartamento e un box all'Aquila e tre appartamenti a Pettino. Secondo l'accusa, dirigenti e tecnici del provveditorato alle opere pubbliche avrebbero adottato procedure finalizzate a fare seguire i lavori di restauro della caserma Campomizi al consorzio Federico II, associazione di imprese, nata pochi mesi dopo il 6 aprile del 2009. Le due imprese aquilane, facenti parte di questo consorzio, avrebbero tratto un ingiusto profitto, quantificato dai periti della procura in 2 milioni e mezzo di euro, truffando il provveditorato alle opere pubbliche e la protezione civile, da qui il sequestro autorizzato dal GIP del Tribunale di L'Aquila.